Ciao e benvenuti in un nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco e il video di oggi è molto molto interessante, ma anche molto importante, perché oggi parliamo dei falsi amici o false friends tra l'italiano e l'inglese. Ma che cosa sono i falsi amici? Ti starai chiedendo? Te lo spiego subito. Un falso amico è una parola che è molto simile in due lingue, ma che ha un significato completamente diverso. Quindi nel nostro caso un falso amico è una parola che si scrive o si pronuncia in modo simile in italiano e in inglese, ma che ha un significato differente. Conoscere i falsi amici è molto importante, perché se non li riconosci rischi di venire in Italia e dire una cosa convinto di dire qualcos'altro. Quindi attenzione, in questo video vediamo i 9 falsi amici più comuni. Ovviamente ce ne sono tanti altri e farò degli altri video a riguardo. Ma cominciamo! Il primo falso amico di cui ti parlo è camera in italiano e camera in inglese. Queste due parole sono identiche, si scrivono nello stesso modo, ma il significato è molto differente. Perché camera in italiano si traduce con room in inglese. Vediamo un esempio. La mia camera è sempre disordinata. My room is always untidy. Camera in italiano è macchina fotografica. Con questa macchina fotografica posso fare foto di alta qualità. With this camera, I can take high quality pictures. Falso amico numero due. Pretendere in italiano. Pretend in inglese. pretendere in italiano significa to expect something. To expect something from someone. Vediamo un esempio. Mio padre pretende tanto dai suoi figli. My father expects a lot from his children. pretend. Pretend in italiano si traduce con fingere. Si fingere. Vediamo un esempio. Qualche volta fingo di essere una celebrità. Sometimes I pretend to be a celebrity. Non ho molta fantasia oggi con gli esempi. Ma andiamo avanti. Falso amico numero tre. Caldo in italiano, cold in inglese. Queste due parole sono molto simili, ma significano uno il contrario dell'altro. Il significato è opposto. Perché caldo in inglese è hot. Cold in italiano è freddo. Vediamo degli esempi. In estate in Italia è molto caldo. bigliettrico. Quindi caldo, hot. L'inverno in norvegia è molto freddo. Winter in Il falso amico numero quattro. Attualmente in italiano, actually in inglese. Attualmente in inglese significa at the moment, currently. Vediamo un esempio. Attualmente vivo e lavoro a Miami. I'm currently living and working in Miami. Actually, in italiano si traduce con in realtà, veramente. Esempio. Ho comprato questa giacca ieri, ma in realtà non mi piace. Falso amico numero cinque. Parente. Parent. Guarda quanto sono simili queste parole, ma il loro significato è molto differente, perché parente in inglese è relative. Not parent. Relative. Esempio. A Natale pranzo sempre con i miei parenti. parente in italiano è genitore. Qui si parla di mamma e di papà, i genitori. Esempio. La prossima estate vado in vacanza con i miei genitori. Next summer, I'm going on holiday with my parents. Falso amico numero sei. Eventualmente in italiano. Eventualmente in inglese. Eventualmente in inglese si traduce con if necessary or if possible. Vediamo un esempio per chiarire. Devo andare in palestra, ma eventualmente posso passare al supermercato. I have to go to the gym, but if necessary, I can stop at the supermarket. Ok, eventualmente significa if necessary or if possible. Eventually in italiano è alla fine. Volevo comprare una tv, ma alla fine ho comprato un computer. I wanted to buy a tv, but I bought a computer eventually. E ora vediamo il falso amico numero sette. Qui parliamo di cibo. Il falso amico numero sette è cocomero in italiano. Cucumber in inglese. Cocomero in inglese è watermelon. In estate mangio molto cocomero. Cucumber si traduce in italiano con cetriolo. Cucumber, cetriolo. La verdura preferita di mio fratello è il cetriolo. My brother's favorite vegetable is cucumber. Falso amico numero otto. Questa è una parola che si scrive in modo identico in italiano e in inglese. Hanno lo stesso spelling, ma ovviamente un significato differente. E questa parola è confetti in italiano e confetti in inglese. I confetti sono delle caramelle, di mandorla o di cioccolato ricoperte di zucchero. Quindi in inglese si può dire sugared almond or sugar candies. I confetti si distribuiscono alle cerimonie come i matrimoni, le cresime, i battesimi, le comunioni. Quindi si mangiano. I confetti non si mangiano. In italiano sono i coriandoli. Sono i pezzettini di carta colorata che si lanciano per carnevale. Quindi confetti sono sugared almond or sugar candies. Confetti, coriandoli. Vi lascio qua le foto perché sia chiaro, ok? Vediamo ora l'ultimo falso amico di questo video. Anche in questo caso ho scelto due parole molto simili, che sono Sono simili, eh? Ma educazione in italiano si traduce con good manners in inglese. L'educazione sono le buone maniere. Vediamo un esempio. I genitori devono insegnare l'educazione ai loro figli. Parents must teach good manners to their children. Education in italiano è istruzione. Quando si va a scuola si parla di istruzione, ok? Sono necessari anni e anni di scuola per avere una buona istruzione. Bene, abbiamo esaurito i nove falsi amici di oggi. Adesso capisci perché è importante conoscere i falsi amici? Perché se non li riconosci, puoi fare un po' di confusione quando parli. Immagina di venire in Italia e chiedere un cetriolo invece di un cocomero. O immagina di andare in un hotel e dire Ho riservato una macchina fotografica, invece di dire Ho riservato una camera. Ok? Spero che questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto spero che ti sia tanto utile. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!